la bella canzone ci porta dritti dritti alla prossima unità e poi anche al gioco ci devo dire che mi dissocio da quello che parlate per l'altro video si va beh poi capirete il tempo di ascoltare questa canzone e andiamo a giocare preparate il vostro telefonino e la vostra risposta intanto della dance la canzone novità di Claire McGuire credo si pronuncia così grazie a tutti Sì Sì Sì